Ma le canzoni sono come i toni, la scuola sono come i suoni e noi non le sa che scrivere in festa e credo al saliscono e non si ricordano più. Sono super amici con la chitarra e sono davanti. E... 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 è che 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 che... è che 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 è... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti